Riaprirà l'asilo delle polemiche di Villa Castelli. La struttura per l'infanzia di via Montessori destinata ai figli delle Braccianti tornerà ad essere operativa a breve anche a partire dalle 3 del mattino. Lo assicura il sindaco del comune del Brindisino, Vita Antonio Caliandro, respingendo le critiche piovute dall'opposizione sulla repentina chiusura del nido dopo appena due settimane di attività per il disimpegno della cooperativa Giocartacli. Il servizio, partito il 16 settembre con inizio alle 7 del mattino, è stato interrotto il primo ottobre. Secondo l'opposizione la stessa cooperativa non avrebbe potuto disporre dei fondi regionali e non avrebbe nemmeno avuto le autorizzazioni necessarie a gestire il servizio, ma per il sindaco le motivazioni sono altre. L'ambito di Francavilla di cui noi facciamo parte aveva ricevuto già dal primo ottobre un fondo provvisorio di 37 mila euro, quindi non credo che sia neanche un motivo valido questo. Nella lettera che la cooperativa, che è venuta meno diciamo all'impegno, le ha inviato, si parla di pressioni da parte delle organizzazioni sindacali. Ci vuole spiegare meglio? C'è un richiamo a delle minacce, a delle pressioni che hanno ricevuto da parte dell'organizzazione sindacale e mi risulta anche da altre persone, perché probabilmente con l'idea dell'organizzazione sindacale di mettere la ditta in un angolo, pressandola affinché assumesse il personale precedente. Il comune individuerà attraverso una gara urgente un'altra cooperativa che si occuperà di gestire l'asilo nido.